E in questa sezione diciamo così parliamo di un argomento nuovo che abbiamo lasciato un po' in sospeso dalle prime lezioni effettivamente e solamente adesso siamo in grado diciamo così di comprendere e di gestire anche perché con la gestione dei file possono succedere diciamo così cose strane tra virgolette nel senso che possono verificarsi degli errori tutte le volte che un programma deve accedere a qualche cosa che sa al di fuori del programma stesso può sempre andare qualcosa storto no? E quindi in particolare con l'input output ci possono essere sempre dei problemi. Allora Python mette a disposizione dei meccanismi che permettono di gestire i problemi o gli errori che si possono verificare. A questi errori noi siamo abituati nel senso che ogni tanto quando facevamo non so provavamo scrivo qua nella console io posso provare a fare float di ciao ovviamente non ci riesce e ottengo un'incessione tipo value error. All'inizio delle lezioni del corso scusate quando convertivamo un valore intero abbiamo imparato a controllare appunto is number is numeric per verificare che fosse fatto di tutte le cifre numeriche ma nel caso di numeri in virgola mobile diventava troppo complicato perché non basta che siano sfatti di cifre c'è il punto decimale c'è il più e il meno davanti eccetera eccetera no? E quindi ci siamo rassegnati a dire beh speriamo che l'utente inserisca un dato floating point nel modo corretto. E se no sappiamo che il programma viene interrotto con un errore tipo value error così come se io avevamo prima vedo qua questa parola split che mi dà un array di un elemento se io cerco di prendere il terzo elemento mi becco un bel index error. Pirla io che ho provato a farlo perché potevo controllare prima la lunghezza e non cercare di accedere a un elemento che non c'è o così come se cerco di aprire un file che non esiste punto txt in lettura mi beccherò un bel errore di tipo file not found error. Quindi questo è il meccanismo che ha di base python per autoproteggersi no? Anche se faccio uno diviso zero ovviamente mi dirà zero divisione error eccetera eccetera. Quando faccio un'operazione che non è possibile completare python si protegge dicendo io questo non lo posso fare interrompo il programma e genero un errore. E ti dico di che tipo è l'errore con un messaggio di spiegazione eccetera eccetera. Adesso impariamo come invece andare ad intercettare questi tipi di errori e potersi gestire senza far bloccare o interrompere il programma. Quindi se l'utente quando voleva un numero floating point mi scrive ciao perché ha voglia di socializzare io anziché interrompere il programma gli dirò no guarda per favore devi inserire un numero. E quindi gestiamo l'errore in modo corretto ma soprattutto quando apro un file se il file non esiste, quando scrivo qualcosa in un file a volte potrei non avere i permessi di scrittura, a volte il disco potrebbe essere pieno quindi il write non funziona. Quindi in tutti questi casi soprattutto quando faccio input output diciamo così siamo attraversando un campo minato di possibili problemi che si possono verificare. Che meccanismi ci dà python per poter gestire questo tipo di errori? Python li chiama errori ma io preferisco usare il termine eccezione che viene usato più in altri linguaggi di programmazione per distinguere gli errori di cui stiamo parlando sono gli errori di esecuzione di alcune istruzioni. Non sono gli errori di sintassi che questi ce ne accorgiamo prima, non sono gli errori logici per cui quando devo fare una somma fa la differenza o cose di questo genere, sono solamente gli errori di esecuzione che si possono verificare in casi eccezionali nell'esecuzione del codice. Questa gestione degli errori si divide in due grosse metà, sono due insieme di istruzioni, di costrutti separati. Rilevare gli errori e gestire gli errori. Cioè rilevare gli errori significa mi accorgo che qualcosa non va bene, non funziona e quindi non posso continuare l'elaborazione. E quindi devo segnalare a qualcun altro, senti ho un problema, per favore occupatene tu. Oppure gestire l'errore, quando io sto facendo un'operazione, la funzione che sta seguendo questa operazione ha un problema e mi dice senti non posso farla, per favore gestisci l'errore. Quindi rilevare l'errore significa creare, segnalare, segnalare una condizione di errore. Gestire significa una volta che mi è stata segnalata questa situazione di errore, faccio qualcosa in merito, cerco di recuperare, cerco di correggere se posso. Ad esempio, quando io faccio l'open di un file, la funzione open magari riesce ad aprire il file, oppure magari si accorge che non si può aprire il file. E quindi rileva l'errore. Non può la funzione open correggere l'errore. Cioè se il file manca, come fa l'open a sapere cosa fare? Apro un altro file a caso solo perché sono lì? No. Il gestore che ha scritto il programma invece può correggere l'errore, forse. Cioè se io ho un programma di questo genere in cui il nome del file è messo come costante, se l'open fallisce non c'è niente da fare. Ma magari questo nome del file sarà inserito dall'utente, con una input. Allora se l'open non funziona perché il file non esiste, potrei chiedere all'utente per favore inserisci un nome di un file che esista davvero. E quindi in qualche modo posso ritentare l'operazione sapendo che la prima volta è fallita, ma io posso in qualche modo gestire quell'errore, gestire quel malfunzionamento. Quindi abbiamo sempre, pensiamo alle funzioni perché è più semplice, una funzione che non può andare avanti perché si verifica qualche condizione contraria, ma lei da sola non sa come risolvere questa situazione e poi abbiamo un programma principale, una funzione chiamante, che invece magari è in grado di gestire la situazione quando questa viene segnalata da una funzione da esso chiamata. Quindi abbiamo una funzione che rileva l'errore, non lo sa gestire, ma riferisce a chi l'ha chiamato, senti c'è un problema. Io mi interrompo qua, vedi tu se devi gestire il problema. Il chiamante è colui che gestisce il problema. Quindi quando chiamo la open io so che la open potrebbe generare un errore e mi preparo per gestirlo nel caso in cui succeda. In Python ci sono due istruzioni diverse per queste due metà. Rilevare gli errori, si usa l'istruzione raise, raise solleva in inglese, infatti a volte diremmo anche sollevare un'eccezione, alzare la manina per dire se è qualcosa che non va a sollevare. Vabbè, hanno scelto questo termine che non è molto, secondo me, indicativo del fatto che sia stato un errore, però solleva un'eccezione. Eccezione di un vario tipo, abbiamo visto che ci sono l'input output error, il find not found error, il division error, cose di questo genere, negli esempi che abbiamo visto prima. Quindi errori di tipi diversi e ogni errore può avere un messaggio descrittivo che spiega il perché del problema. Questo viene fatto normalmente nelle funzioni che svolgono delle operazioni, diciamo, pericolose, tra virgolette, cioè che possono causare dei problemi. Ma più importante per noi, che scriviamo il programma principale e usiamo magari funzioni di libreria, funzioni fatte da altri, è la gestione degli errori che invece sono stati sollevati dalle funzioni di libreria. E questo invece si gestisce con due istruzioni che si chiamano try ed accept. È un blocco nuovo, noi abbiamo conosciuto il blocco if, il blocco for, il blocco while, il blocco def per definire funzioni, adesso impariamo un blocco nuovo, il blocco try, che è una specie di if che funziona al contrario. Allora noi partiamo da questa gestione degli errori, perché è quello che ci interessa di più, per poter usare le funzioni open e gestire gli errori di apertura, per poter usare la funzione interflot e gestire gli errori di conversione e così via. Ci interesserà un po' meno invece la rilevazione degli errori, perché questo è più il lavoro di chi deve preparare le funzioni e che altri useranno. Quindi partiamo da questo perché tocca più da vicino il tipo di programmi che dobbiamo fare noi. Antonio mi dice che in Java era più bello il termine, certo che era true, lanciarono l'eccezione. Qua hanno scelto raise, così come era bello il catch in Java, mentre qui hanno usato except, non chiedetemi perché abbiamo deciso di cambiare questi nomi, ma capite che se uno ha più linguaggi per le mani, gli stessi concetti possono arrivare con nomi diversi. Massimiliano mi dice che se riusciamo a gestire gli errori non siamo più costretti a controllare tutti i possibili input dell'utente. Sì, è uno degli scopi. Anziché controllare a priori, maledizione chissà come può essere fatta questa stringa, è fatta una serie di controlli a monte, io dico provo a convertirlo in intero. Se va bene, bene. Se non va bene, c'è stato un errore, allora chiederò all'utente di correggerlo. Ma il controllo del formato della stringa lo fa direttamente la funzione int, lo fa direttamente la funzione float e non devo impazzire io a monte. Per quello che voi non mi ascoltavate, ma mesi fa, due mesi fa, vi dicevo non state a impazzire troppo a fare troppi controlli, perché poi impariamo a farlo in modo più furbo, a farlo fare alle funzioni di libreria. Ma voi su queste cose qua vi appassionate sempre, come la formattazione dell'output, come i nomi dei file, perché sono dei dettagli in cui vi annidate facilmente. Allora, partiamo dalla gestione delle eccezioni, che è la parte, diciamo, che ci interessa. In teoria, un programma fatto bene non dovrebbe mai crashare, non dovrebbe mai vomitare in faccia all'utente un messaggio d'errore sulla console, perché l'utente normale legge questa roba là, dice il computer è impazzito, devo buttarlo via, metterlo, sanificarlo, adesso sanifica tutto, perché stampa dei messaggi strani. Un programma normalmente dovrebbe riuscire a gestire tutti gli errori che si verificano. Poi gestire potrebbe anche voler dire stampo un messaggio educato, e dico scusa, ed esce e termina, ma termina con un messaggio comprensibile e non col messaggio value error o i messaggi che abbiamo visto qua nella console che sono utili al programmatore, ma un programma come traceback, file in module, visual by zero, all'utente del programma non dicono nulla. Sarebbe bene che il programma gestisse ogni possibile errore, ma non tutti gli errori sono recuperabili, come dicevamo, alcuni errori li posso recuperare magari ritentando l'operazione, cambiando i dati, eccetera, altri errori sono errori magari previsti che potrei prevedere e quindi li ignoro tranquillamente, oppure decido di terminare il programma scrivendo un messaggio, diciamo così, oppure c'è chiedere di correggere i dati, eccetera. Non c'è una regola generale, se fosse una regola generale ce lo farebbe già automaticamente la libreria. Siamo noi che sapendo cosa deve fare il programma, decidiamo caso per caso, tipo di errore per tipo di errore, come gestirlo. E la sintassi che ci dà a disposizione Python è questo blocco try, except, che in realtà è fatto di due parti, la parte try e la parte except. La parte try è un blocco normale, l'istruzione try da sola non fa nulla, ma delimita una serie di istruzioni all'interno delle quali ci potrebbe essere un'operazione che genera errore. Allora, io quando apro un blocco try sto dicendo, guarda, le istruzioni che seguono in questo blocco try sono pericolose, nel senso che sono a rischio di generare errori. Quindi io voglio gestire l'errore che salta fuori eventualmente dalle istruzioni contenute all'interno di questo blocco try. Quindi dentro il blocco try ci metterò a guardare una open. Se leggo un dato all'utente, il dato all'utente lo metterò, la int che converte la stringa in intero, la metterò anche questa dentro un blocco try, e così via. E poi ho un blocco except che viene eseguito solo se c'è stato, si è verificato un errore durante l'esecuzione dell'istruzione del blocco try. Vediamo un esempio qua, preso dalla figura del libro. L'apertura di un file. Qui ci sono le istruzioni in cui deve aprire un file, leggere le linee, una linea e fare qualcosa su questa linea. Queste istruzioni che sono a rischio di generare eccezione, in particolare input error, input output error, find not found error, l'abbiamo visto prima qua sopra, era find not found error, eccetera, le ho messe all'interno di un blocco try. Questo vuol dire che io posso eseguire le istruzioni l'una dopo l'altra facendo finta che vada tutto bene. Non devo andare istruzione per istruzione a dire ma tu hai avuto successo, non hai avuto successo, ci sono stati problemi, no. Le eseguo. Sapendo che se per caso almeno una di queste istruzioni ha generato un errore, questi errori verranno catturati dalle clausole except che in realtà possono essere anche più di una perché potrei anche avere più di un tipo di errore all'interno del codice. Ok? E quindi questa clausola except dice qual è il codice da eseguire se si verifica nel blocco try un errore di tipo input output error. Input output error che tra l'altro comprende al suo interno find not found error. Se invece si verifica un'eccezione di tipo diverse allora viene eseguita questa seconda except che invece specifica che lei catturano qualunque tipo di eccezioni. Quindi io posso avere un blocco try che contiene istruzioni, io so quali sono i tipi di errori che si possono verificare e alla fine di quel blocco try ho una serie di except che vanno a gestire uno per una i tipi di errori che si possono verificare. Ok? Il blocco try si chiude con la parola chiave except quindi ogni try deve avere almeno un except così come ogni if non è vero che ogni if deve avere un else ma un try senza except non ha senso di esistere. Deve esserci almeno una clavula except e possono esserci neanche più di una. Se io ho un errore su questa riga open il resto del blocco try non viene fatto cioè nel momento in cui trovo l'errore ovviamente si interrompe l'esecuzione qua e si salta direttamente qua sotto per quello che dicevo che è una sorta di if al contrario è un po' come se fosse scritto if qui c'è un errore fai questo codice però questo if è sottinteso dentro il blocco try ogni singola istruzione controlla se c'è un errore non stampa il messaggio di errore solito non interrompe l'esecuzione del programma perché io qua sto dicendo a python guarda che questi tipi di errore li gestisco io quelli che ti specifico sotto nella clavula except gli errori sono di vario tipo visto che ne state parlando ho una figura più avanti che vi mostro adesso ecco questi sono alcuni dei tipi di errori che sono definiti nella libreria nella libreria python e sono decomposti per cui l'input output error è qui che è un tipo di standard error che è un tipo di exception quindi nella clavula except posso essere più generico o più specifico se io scrivo exception except exception a parte il gioco di parole sto catturando qualunque tipo di errore se invece faccio un except solo di io error mi catturerà solamente i tipi di errore legati all'input output arithmetic error mi va a prendere gli errori di overflow o di divisione per zero ad esempio e così via quindi se io voglio catturare qualunque errore catturo exception altrimenti catturo una categoria di errori che mi possa interessare ad esempio se non sbaglio value error è quello che che mi dà quando cerco di convertire un valore che non esiste qual era quello del dove era value error quando cerco di convertire una stringa in un intero quando non ha il valore corretto allora posso catturare un value error oppure uno standard error oppure un exception quindi vado a posso scegliere se catturare quel tipo di errore specifico oppure una categoria più grande di errori che comprende quello e i suoi cugini i suoi vicini nel dubbio se uno mette exception cattura tutto ok ovviamente quando ho più clausole torno indietro più clausole except conviene partire dalle più specifiche e poi andare via via sulle più generiche come una catena di if io prima vado a prendere il caso particolare poi se non si rivega il caso particolare vado nel caso generale perché se mettessi l'exception come primo clausola quella mi carica mi copre comunque tutto e la seconda except non verrebbe eseguita mai massimiliano ha detto se io faccio istruzione except exception questa si cattura qualunque tipo di errore e ovviamente dell'exception viene eseguita solamente la prima allora vediamo un caso pratico io voglio aprire un file e leggere un numero intero dalla prima riga del file allora io potrei scrivere una cosa di questo genere chiedo all'utente il nome del file lo apro leggo la prima riga e poi estraggo un numero intero dalla prima riga quindi questa cosa sarà una stringa la converto in int e poi vado avanti allora io mi accorgo che la open può fallire con un input output error che può essere un file not found error ma potrebbe essere un altro tipo di input output error magari ad esempio non hai permessi di lettura o qualcosa di questo genere o il file ha già un uso da un altro processo sono tutti errori di input output e la e-conversione in intero può dare un value error allora io potrei decidere di fare in due modi diversi potrei avere un primo blocco try con le sole due istruzioni iniziali except value error e un altro blocco try con queste sole due istruzioni except value error però diventa un po' troppo frammentato il codice perché alla fine un po' di codice è un po' di gestione dell'errore un po' di codice è un po' di gestione dell'errore quando il blocco non è molto lungo conviene scrivere una parte di istruzione diciamo così logicamente collegate e subito dopo la gestione degli errori di quella parte del codice ok io quindi gestirò in modo diverso gli errori di input output rispetto agli errori di conversione di value error in questo caso è una gestione stupida nel senso che stampo semplicemente un messaggio di errore diverso ok il messaggio di errore lo posso creare io esempio ho fatto questa print oppure posso usare il messaggio di errore che mi ha già dato la funzione che ha rilevato l'errore stesso cioè in questo caso la int sa già stampare un messaggio noi abbiamo visto il messaggio lo costruisce questo messaggio e il value error è could not convert string to float allora se io voglio stampare questo messaggio lo trovo con questa sintassi as exception quindi qui dico il tipo di eccezione questo as mi crea una variabile che contiene le informazioni sulla eccezione che è appena stata rilevata e se questo oggetto lo converto in stringa mi salta fuori proprio il messaggio che voglio che voglio visualizzare quindi se mi interessa catturare il messaggio che mi arriva dall'eccezione devo aggiungere as questo exception è un nome di qualunque variabile la posso chiamarlo abcd come voglio come voglio e estrago la stringa il messaggio di tipo string altrimenti questa clausola as è facoltativa posso anche non averla in questo caso non avrò accesso all'oggetto che contiene le informazioni di dettaglio sull'eccezione stessa quindi in questo caso cosa può capitare in questo caso l'open può generare un input output error allora se si verifica questo l'esecuzione non fa queste due righe ma salta direttamente qua se invece non c'è questa eccezione vado avanti fino a trovare la int e la int potrebbe generare un value error allora se si verifica il value error vado qua se la stringa non si può convertire in int solo se non si verifica nell'uno nell'altro errore andrò a eseguire questo codice che qui non è riportato che sotto questi puntini puntini il codice vero e proprio ok in automatico non fa nulla lui semplicemente se c'è l'errore esegue l'except poi che io nell'except decido di leggere di nuovo il dato decido di settare un flag per cui richiedo il dato decido di stampare un messaggio e terminare il programma questo è una scelta mia l'unica certezza che ho è che il programma non va avanti ad eseguirsi se si verifica almeno un'eccezione non sarebbe andato avanti comunque si sarebbe interrotto di brutto anziché interrotto di brutto io ho la possibilità di gestire in modo più o meno avanzato più o meno evoluto questo errore Roberto as exception non so se l'hai scritto prima o dopo che l'avessi detto è il modo per memorizzare all'interno di una variabile in questo caso si chiama exception posso chiamarla come voglio le informazioni sulla eccezione e tra queste informazioni c'è tra l'altro il messaggio d'errore il numero di linea eccetera eccetera in cui si è verificato quindi se voglio usare dei dettagli sull'eccezione nella sua gestione ok Andrea mi chiede che se creiamo una funzione dovremmo imparare a sollevare gli errori sì questo lo vediamo tra un attimo brevemente perché non è il focus principale del programma del corso però sì se creiamo funzioni noi impariamo come sollevare le eccezioni in modo che il nostro chiamante li possa gestire i nostri errori strampare l'exception diciamo se Emiliano non è diverso dell'errore rosso che ci darebbe Python da solo non è molto diverso sono d'accordo con te con due con una differenza beh due uno è che il messaggio che scrivo magari può essere un pochino più comprensibile per l'utente finale e il secondo è che quando io stampo questo messaggio poi il programma continua non esegue questo le altre istruzioni dentro il blocco try ma dopo il blocco try va avanti poi sono io che devo decidere se deve andare avanti oppure no oppure tornare indietro oppure uscire oppure ripetersi mentre invece se lui mi stampa il messaggio rosso di errore il programma è terminato senza possibilità di appello invece sono qua io che decido se stampare il messaggio e terminarlo oppure oppure farlo andare avanti magari cercando di correggere l'errore oppure magari facendo qualche cos'altro nel programma questa struttura si può inserire nella definizione del main sì si può inserire ovunque tenete presente che se voi nel main avete un unico grosso try except in quell'except andrà a finire qualunque eccezione venga generata in qualunque punto del programma e allora a questo punto se nel main che magari è un main che chiama sette funzioni diverse c'è un except 1 input output error dice ma qual è la funzione che ha generato in input output error boh allora magari posso stampare un messaggio di errore ma non avrò la conoscenza per poterlo correggere questo errore quindi a volte si cerca di mettere l'except un pochino nel punto giusto in cui so come correggere l'errore non diciamo che nemmeno sulla singola istruzione ma neanche sull'intero programma main sta a me un po' scegliere dove metterlo soprattutto ricordiamo queste servono per gestire l'errore se io l'errore non lo so gestire è inutile che metta un try lascio che il programma si schianti e muoia se so come gestirlo allora posso nel punto in cui lo saprei gestire mettere questo mettere questo costrutto come quando leggevamo i dati dall'utente leggevamo una stringa poi avevamo una serie di if prima di convertirlo in un intero ecco quella serie di if era per noi la gestione dell'errore sapevo cosa fare avevo deciso cosa fare se il dato non fosse stato valido qui è la stessa cosa lo metterai in quel punto usando questa sintassi che però mi semplifica parecchio il lavoro il messaggio rosso non ci sarà secondo come dice Filippo infatti non ci sarà ma ma sarà quello che mettiamo noi nella print a piacere nostro quindi questo blocco può essere seguito in un ciclo e farlo dipende da un try sì assolutamente sì adesso lo vediamo lo vediamo magari in pratica questa qua era la spiegazione l'oggetto exception che c'era già nel codice viene spiegato in queste due slide che quindi raccontano ciò che avevamo già detto a voce l'oggetto eccezione corrispondente dalla quale se voglio posso estrarre il messaggio in questo caso questo messaggio qua sarebbe il messaggio che salta fuori dal tentativo di convertire in intero una stringa di questo genere questo suggerimento sul lanciare eccezioni non sappiamo ancora fare catturare eccezioni più tardi possibile significa che alla fine quello che abbiamo cercato di dire un attimo fa catturiamo le eccezioni solo se effettivamente sappiamo rimediare il problema nel punto in cui tu sai cosa fare non va bene gestire l'eccezione troppo dentro le funzioni perché non hai la conoscenza di come di cosa cosa se ne farà il programma di quel valore il programma principale non ha senso mettere nel main perché magari non hai la conoscenza di cosa stava facendo il programma in quel momento bisogna trovare un po' il punto giusto ok se un'istruzione genera un'eccezione una open ma quell'eccezione non viene catturata direttamente dentro il codice della funzione che chiama la open questo errore si propagerà alla funzione chiamante e al chiamante del chiamante e così via se nessuno in questa catena lo blocca lo intercetta questa eccezione allora il programma si interrompe se almeno una delle funzioni esterne ha un except allora viene gestita a quel livello la funzione quindi può darsi che un errore che si scatene una funzione venga gestito da una funzione diversa questo è il meccanismo per cui è molto più potente rispetto a una if che deve agire localmente io posso avere un try qui anzi non metto neppure il try ma l'except ce l'ho tutta in un'altra parte quindi bisogna cercare di rispondere alla domanda qual è il punto due domande primo quali sono le condizioni anomale che voglio gestire non rispondetevi tutte altrimenti il vostro programma diventa di 12.000 linee ok vogliamo gestire le condizioni anomali principali o quelle che riteniamo importanti vi accorgerete che se uno vuole gestire tutte le eccezioni ha un programma in cui ci sono 10 righe di codice e 100 righe di gestione dell'errore va bene se il programma dovesse diciamo così essere mandato in mano a chiunque che lo possa usare in qualunque condizione però non focalizziamoci troppo sulla gestione dell'errore col rischio di perdere di vista la gestione dell'algoritmo quindi prima scriviamo il codice come se il programma funzionasse sempre e poi ci aggiungiamo la gestione dell'errore per gli errori più frequenti che possiamo ottenere che possiamo incontrare allora facciamo un esempio un esempio molto semplice di lettura di un numero intero tra virgolette robusta magari un float che è un pochino più complicato perché l'intero già lo sapevamo fare quindi lettura di un float da tastiera congestione dell'errore perché da tastiera ma perché se leggessi da file non ci posso far nulla se nella riga 3 del file c'è un numero float in point scritto male con un errore non è che posso chiedere al file di correggersi da solo semplicemente interroperò il programma se invece è inserito la tastiera posso chiedere all'utente di inserirlo quindi potrei definire una funzione leggi float a cui passo magari un messaggio da scrivere e chiedo all'utente un float e questa funzione insisterà fino a quando l'utente non inserisce un numero for being point vero e proprio e magari posso anche mettergli magari un parametro valore minimo e valore massimo che posso accettare magari mettiamo come sapevamo già fare un valore di default un numero che un valore minimo legge un numero floating point completo tra un valore minimo e un valore massimo se non ti specifico il minimo e il massimo saranno 0 e 100 questo è ciò che sto definendo per questa funzione e allora cosa farà questa funzione beh di base deve fare input numero uguale input di messaggio number uguale float di number e return number questo se tutto andasse bene ok se non ci fossero errori poi abbiamo un main ad esempio in cui chiamo due o tre volte questa funzione quindi chiamerò a numero a leggi float col messaggio inserisci a punti e poi b chiamerò sempre la funzione leggi float col messaggio non so inserisci b tra 10 e 20 ad esempio in cui passerò a questo punto il valore valore minimo uguale 10 valore massimo uguale 20 e poi farò una bellissima print di a e b e chiamo il main ok questo funziona se l'utente non inserisce errori quindi inserisco 5 inserisco 12 e lui mi stamperà 5 e 12 ma questo lo sapevamo fare già mesi fa adesso aggiungiamo la decisione dell'errore noi sappiamo già che il float mi può generare la conversione in float mi può generare una un'eccezione tipo value error che abbiamo visto se non siamo sicuri possiamo provare a fare il float di x e vediamo cosa mi da mi da value error oppure se facciamo questo mi da value error qualcosa che sembra un numero ma non lo è 2,5 2,2 non me lo da mi da sempre value error quando trovo qualcosa che non funziona ok allora io posso inserire questo in un bel blocco try accept accept value error così value error queste due istruzioni le indento all'interno del blocco try e qua dovrò decidere che cosa fare come gestione dell'errore allora la prima cosa dovrò dire che il valore inserire diciamo così inserire un numero point nel formato corretto ad esempio e cosa succede nel caso in cui il valore non sia corretto dovrò chiedere di nuovo il valore allora tutto questo dovrà essere dentro un ciclo wild perché io devo ripetere questa operazione più volte finché questo benedetto utente non inserisce il valore giusto qui tutto questo lo devo inserire un wild not ok e parto da un ok uguale falso e quindi tutto questo blocco qua lo inserirò dentro un wild e l'ok lo metto vero dove qua ad esempio oppure anche come ultima istruzione del try no meglio scusate no deve essere come ultima istruzione del try se io faccio tutte le mie letture le mie conversioni poi devo ancora controllare il valore minimo e il valore massimo ma ovviamente se il float è avuto successo metto questo ok uguale true che mi farà uscire dal ciclo wild altrimenti ok rimane falso e il ciclo wild ripeterà più volte quindi vediamo come funziona se io qua inserisco al posto di a qualche cosa mi dirà inserire il numero point in formato corretto quindi il float ha dato un'eccezione non mi ha eseguito questa istruzione ok uguale true e quindi ho stampato il messaggio d'errore e il ciclo while mi dice torna su e ripete l'input e ripete il float anzi ripete lì adesso rimasto sull'input questa volta scrivo un valore corretto e mi permette di andare avanti ok adesso devo fare anche il controllo quindi metto un altro numero 15 e scusate l'uluna è finito in un posto strano la domanda sulla chat l'input va dentro o fuori dal try in realtà è abbastanza indifferente perché l'input non so se generi può in realtà generare un errore tipo end of file error se l'utente inserisce un carattere di fine input sulla tastiera però diciamo normalmente potrebbe non generare eccezioni se vogliamo essere più sicuri lo mettiamo dentro il try così se per caso input generasse eccezioni ma visto che non è un tipo di eccezione che stiamo gestendo potrebbe anche essere fuori io però preferisco non frammentare troppo il codice perché visto che questo num uguale input e la conversione del numero in float sono di fatto due passaggi della stessa operazione li tengo vicini cioè non fa male portare qualcosa dentro un try ma neanche portarlo fuori se lui non sta generando il tipo di eccezioni che mi aspetto che sto cercando di gestire è abbastanza trasparente questa barriera del try per le funzioni per le istruzioni che vengono prima di quella che può causare l'errore quelle che vengono dopo no chiaramente cambia perché vengono eseguite o no a seconda che siano dentro o fuori dal blocco try però per quelle prima è una questione un po' quasi più di leggibilità che non di funzioni non ho capito tanto la domanda di Filippo che mi dice se uno sa cosa fare perché devo dare try e non correggere subito correggere chi? l'utente o il programmatore? perché noi siamo il programmatore che sta scrivendo un programma che sta prevedendo di poter gestire gli errori di missione che farà l'utente quindi è vero che io so già cosa fare ma il mio utente magari non lo sa o magari si sbaglia io non so se questa è la domanda di Filippo se riesce a chiarirla perché ho stampato 5 perché avevo il cursore nel posto sbagliato quindi vediamo solo 15 perché avevo il cursore spostato e quindi l'uno non l'ha preso come parte dell'input ok adesso dobbiamo aggiungere il controllo del valore massimo e il valore minimo vabbè questo è un controllo normalissimo possiamo però usare la stessa infrastruttura del while che mi permette di ripetere l'operazione più volte controllando se a questo punto if numero è compreso tra il valore minimo al min minore uguale di num minore uguale di valore massimo allora potrò mettere ok uguale true altrimenti stampa promessa di errore print errore il valore dovrebbe essere compreso dovrebbe deve essere compreso tra valore minimo e massimo quindi in questo caso proviamo a rieseguire il programma inserisco a mille non va bene perché il valore deve essere compreso tra 0 e 100 che sono i valori di default e inserire il valore in formato corretto 99 è giusto lo fa entrare in 16b a questo punto se provo a mettere 5 non me lo prende se metto 55 non me lo prende se metto abcd non me lo prende se metto 15.3 ovviamente me lo prende quindi in questo caso qualunque sia la causa che fa sì che il numero in floating point non sia letto correttamente io la so gestire la posso gestire tranquillamente e quindi non ho bisogno di fare dei controlli preventivi su questa stringa che ho letto dall'input per immaginarmi se è scritta in realtà questi controlli fa già la funzione float nel suo lavoro di conversione quindi non devo farli due volte ma semplicemente uso questo meccanismo delle eccezioni allora dove sto leggendo numeri dell'utente ha senso ripetere la lettura dove sto leggendo numeri da file magari o dei valori dei file invece non ha molto senso ripetere la lettura perché tanto il file quello è non è che solo leggo una seconda volta o cerco di aprirlo una seconda volta compare quindi è più legato ai valori inseriti dall'utente questa gestione di questo genere e quindi in questo caso il programma principale anziché usare la funzione input normale userà questa leggi float che a questo punto la usa con la stessa sintassi con cui userebbe la input ma ha al suo interno la gestione dell'errore e la gestione degli input quindi in qualche modo ci semplifica anche poi la scrittura del programma principale in questo caso la funzione intercetta e gestisce alcuni tipi di errori ovviamente non intercetta e gestisce altri tipi di errori in questo caso qua non vedo quali errori si potrebbero verificare però se ci fosse per dire una divisione per zero qua dentro questa funzione visto che non c'è l'accept della divisione per zero degli errori aritmetici questa eccezione verrebbe non gestita qui propagata al main che non la gestisce perché di nuovo qua non c'è un try except per quel tipo di errori e interropperebbe il programma quindi tutte le eccezioni generate in un certo punto di una funzione e non gestite dalla funzione stessa passano alla funzione superiore e così via fino a quando qualcuno le gestisce oppure fino a quando il programma viene interrotto se nessuno le gestisce Simone dice io voglio mettere exception dappertutto adesso che ho scoperto che esiste attenzione che mettere un exception senza sapere che cosa fare non è molto utile se io metto exception e stampo ah c'è stata un'eccezione sì è vero che l'hai gestita in qualche modo ma più che altro l'hai nascosta immaginate quando noi scriviamo i nostri programmi se non ci venissero fuori questi messaggi di errore col numero di riga e con il tipo di errore e ci fosse semplicemente scritto dato errato c'è da spararsi perché non sai dove è il dato errato in quale linea del programma c'è stato il problema quindi attenzione a non usare il meccanismo della gestione delle eccezioni per nascondere gli errori perché altrimenti gli stampi un messaggio generico errore ma non sai più dove e non hai nessun strumento per poterlo recuperare per poterlo andare a correggere quindi inseriamo la gestione delle eccezioni solo quando le sappiamo gestire davvero e non semplicemente per nascondere l'eccezione come la polvere sotto il tappeto e scrivere un messaggio gentile da cui però il programma continua a avere un problema cioè questa eccezione non si dovrebbe verificare l'errore non a caso si chiamano errori questi non si dovrebbero verificare se si verificano cerchiamo di gestirli in qualche modo ok quindi se un errore è previsto quindi prevedo che il file possa non esistere allora stampo messaggio e dico guarda il file non esiste non posso far nulla ma l'ho previsto ma mettere un try except di exception in generale su tutto non mi piace tanto perché quella lì va a catturare anche errori che magari non avevo previsto a cui non avevo pensato e se c'è un errore a cui non avevo pensato è un errore logico di programmazione e nascondere questo errore diventa un messaggio generico arrivederci è un problema è un problema per me soprattutto perché non riuscirò a questo punto a completare a completare l'esercizio correttamente a avere un programma robusto se l'utente non inserisse nulla e mandasse direttamente invio eh non lo so proviamolo quindi l'utente sono qua su run inseriamo nulla mi dà comunque un value error sì perché ovviamente una stringa vuota non è un eh un numero sotto in point corretto i modi che usavamo prima per gli errori sono comunque validi certo non c'è una cosa non vengono messi fuori legge eh però usiamo diciamo così il meccanismo che ci risulta più più comodo più consono ogni ogni volta il controllo di sotto in point non l'abbiamo mai fatto prima e vedete le funzioni che per controllare un floating point alcuni di voi sono sperticati a fare funzioni lunghissime quando in realtà c'è già un meccanismo più semplice diciamo andare a cercare la complessità fine a se stessa non piace perché poi voglio vedere se avete se il vostro codice è in grado di eh catturare il numero eh scritto come più 3.17 per 10 alla 1 che sarebbe 31 allora la float sa interpretarlo il vostro codice magari gestione dell'errore customizzato non è detto che che sappia interpretare questa questa che è una sintassi corretta per un numero di float import ok però tutto parte dall'osservazione che vi ho detto prima inserisco la gestione dell'errore se so cosa fare per gestirlo altrimenti è inutile aggiungerlo esiste un'altra clausola sempre nella sintassi try accept che si chiama finally che qui l'ho etichettata come argomento avanzato perché non la usiamo molto di frequente noi sappiamo che le istruzioni nel blocco try vengono eseguite solo se non ci sono eccezioni ok però guardate questo codice io ho aperto un file supponiamo che vada bene e poi quando scrivo i dati magari c'è un'eccezione allora c'è il rischio che quando questa eccezione viene sollevata quando si verifica questa eccezione ci dimentichiamo di chiudere il file allora la clausola finally ci può permettere di specificare del codice che viene eseguito comunque sempre dopo il blocco try se non c'è stata nessuna eccezione oppure dopo il blocco accept di gestione dell'eccezione cioè sia che ci sia stata che no l'eccezione il finally viene eseguito sempre quindi se c'è un'operazione che vogliamo essere sicuri che venga eseguita anche se ci sono state eccezioni le possiamo mettere dentro il finally è equivalente a mettere questa istruzione alla fine del try e alla fine di ogni except praticamente però anziché metterlo più volte perché vogliamo essere sicuri che venga fatta in tutti i cammini possibili la mettiamo una sola volta in un blocco che si chiama finally quindi non aggiunge nulla di nuovo se non questo essenzialmente quindi la clausola finally si aggiunge alla fine dopo i vari except viene eseguito sia che ci sia stata che non ci sia stata un'eccezione quindi il finally è un po' se non c'è nulla semplicemente il codice esegue se non ci sono eccezioni il codice esegue il blocco try esegue il blocco finally e va a casa tranquillo è solo quando ci sono delle eccezioni che invece va a eseguire le varie clausole except quindi interrompe a metà il blocco try esegue le clausole except e alla fine esegue il blocco finally però come dicevo non lo useremo molto spesso pensate appunto il blocco try è seguito sempre da finally sia che ci sia che non ci sia un'eccezione nel caso di un'eccezione viene eseguito un pezzo di blocco try il blocco except corrispondente il primo blocco except che corrisponde all'eccezione che abbiamo diciamo catturato e poi viene sempre eseguito il blocco finally Michele mi chiede allora Niccolo mi chiede si può mettere un except dentro un except sì sicuramente in realtà non sono neppure dentro come l'avevamo visto prima gli except sono uno dopo l'altro come se fossero degli elif if elif 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 all'interno del blocco try o in realtà all'interno di qualunque blocco anche un except posso mettere a sua volta un altro try except per verificare un altro set di errori di errori si possono amnidare i try except senza nessun problema il problema ovviamente è capire cosa sta succedendo magari conviene separarlo in funzioni diverse per ragioni di comprensibilità dunque non è equivalente allora Michele sì quando dicevamo la final è equivalente a mettere dopo gli except ma anche dopo il try ma anche al fondo del try però è più comodo mettere un punto solo se dentro la final c'è un errore ha ragione alla risposta di Antonio metti un altro try all'interno del final oppure lasci che l'errore si propaghi se per caso si propaga a volte ci sono errori gli errori che saltano fuori nella gestione di un errore a volte si possono recuperare a volte no ok la finally Andrea la mettessimo fuori dal try fuori dall'except non funziona finally fa parte del blocco try quindi tutto questo mondo qui deve iniziare sempre con try e poi dentro try c'è accept c'è finally può avere uno o più except ed eventualmente una finally finale quando le cose si complicano si possono avere dei blocchi anni dati ad esempio avete un try except per catturare l'eccezione sulla open e poi dentro nel try in questo caso finally per catturare le eccezioni durante l'elaborazione della scrittura sul file si può sicuramente fare un suggerimento che ci dà il libro è cerchiamo di usare solamente o try except oppure try finally per non avere la combinazione delle due e avere un codice forse più pulito quindi è meglio indentare un livello in più così abbiamo abbiamo più chiarezza ma in realtà è solo un suggerimento dipende ovviamente da che tipo di gestione dobbiamo fare stiamo dicendo solo che si è trovato un errore ma non stiamo risolvendo gli errori in questo caso no però nell'esempio che abbiamo fatto prima sì qui abbiamo risolto l'errore perché abbiamo chiesto di nuovo un nuovo valore quindi il programma non si è interrotto ha potuto andare avanti con un valore corretto mentre la prima emissione era un valore errato quindi ho corretto l'errore che si era verificato da un'emissione errata quindi in questo caso il programma sta facendo quello la maggior parte degli errori non si può corregger se io ho una divisione per zero ho una divisione per zero fine vuol dire che quel valore lì non doveva essere zero allora devo capire perché è diventato zero quindi molte volte non è recuperare la situazione se invece posso interagire con l'utente per farmi aiutare a recuperare la situazione allora lo posso fare ok su questo la salto ecco l'altra metà quindi qui abbiamo visto tutta la parte del try except per la gestione degli errori che era quella che ci interessava di più vi voglio solo accennare rapidamente invece all'altra metà dell'universo che è quella della rilevazione degli errori cioè se sono dentro una funzione e voglio sollevare io un'eccezione in realtà questo significa dire a qualcuno al di sopra di me a qualche funzione chiamante guarda c'è stato un errore gestiscilo tu perché io non sono capace è un errore che scopro io e non è un errore che magari mi arriva già direttamente dalle funzioni di libreria perché se io faccio un open e quella lì già mi dà un'eccezione ma magari se io controllo dei dati e mi accordo che mi servivano dieci dati non solamente otto come faccio a dirlo alla funzione che mi ha chiamato che mi ha passato una lista con otto dati a me servono dieci allora possiamo farlo usando l'istruzione erase l'istruzione erase leggetela come una sorta di return l'istruzione erase interrompe l'esecuzione della funzione corrente e ritorna esce da questa funzione con quell'eccezione in realtà non è vero perché potrebbe anche non uscire dall'eccezione se fosse un blocco try catch e try accept esattamente di quell'eccezione però un po' da cretini mettere un try di un'eccezione che genero io stesso nello stesso codice quindi solitamente stiamo parlando di funzioni diverse quindi vediamolo nel caso normale io ho una funzione a un certo punto non ritorno con un valore ma ritorno con un errore io a me piace vederla così allora per ritornare con un errore esco con un raise mentre invece per ritornare con un valore esco con un return questa raise non è dentro un try è una cosa a parte sono in una funzione qualunque per qualche motivo si accorge magari che c'è un'anomalia per cui io sto cercando di fare un prelievo e questo prelievo è maggiore del saldo che ho sul conto problema non dovrebbe succedere l'avrei dovuto bloccare prima questa funzione i dati passati a questa funzione non vanno bene e allora vedete che qua semplicemente una if un controllo che fa sì che questa funzione dica guarda io non posso proseguire perché mi hai dato dei dati sporchi dei dati malati a questo punto questa value error viene generata e viene propagata verso l'alto verso le funzioni che mi hanno chiamata speriamo che qualcuno sopra di noi gestisca value error oppure gestisca un exception altrimenti il programma verrà interrotto quindi questa funzione sta dicendo io so che non posso andare avanti ho incontrato una condizione anomala non la so correggere perché non è che posso chiedere di nuovo non so da dove arrivi amount balance non posso chiedere di nuovo all'utente non ho la conoscenza dentro questa funzione per sapere come correggerlo ma non posso neanche interrompere il programma così di brutto perché magari qualcuno sopra di me sa come correggerlo allora io segnalo l'errore e se qualcuno sopra di me lo sa correggere lo correggerà altrimenti il programma si interromperà io come funzione di meglio non posso fare e quindi posso sollevare una qualunque tipo di eccezione eventualmente specificando anche un messaggio di errore che poi chi cattura l'eccezione può usare per visualizzare per informare eccetera eccetera e questo è un esempio del tipo di eccezioni che possiamo qui c'è scritto una piccola parte perché se andate a vedere la documentazione sotto exception ci sono molti molti altri casi in più come ad esempio qua il find not found non l'abbiamo visto perché è sicuramente da qualche parte sotto input output error mi chiede mi chiede si può creare un nuovo tipo di eccezione in base alla situazione si si può ma bisogna creare una classe e quindi noi fa parte delle classi e oggetti che è una parte del python che noi non vediamo la creazione di una di un'eccezione particolare basta fare una sottoclasse di una di un'eccezione esistente per dire è un tipo particolare di questa oppure nel caso peggiore una sottoclasse di exception però non ci addentriamo in questo campo sono tre righe di codice non è nulla di particolare però bisogna capire qual è il concetto di classe dentro il value error posso mettere un flag o un numero da ritornare come errore no perché richiede una stringa il costruttore della classe value error guardate se questo linguaggio da programmazione oggetti richiede una stringa come parametro quindi se io voglio mettere un numero un codice lo devo mettere sotto forma di stringa str del codice e poi chi riceve l'eccezione ovviamente potrà potrà estrarre quel valore andando a passificare la stringa l'overflow Roberto mi chiede se l'overflow non esiste in python no non abbiamo detto che l'overflow non esiste in python abbiamo detto che in numeri interi non esiste l'overflow ma in numeri in floating point può esistere quindi se tu elevi a potenza numeri float possono andare in offflow in python mentre invece i numeri interi no perché usa quante bits servono quindi li estendono in automatico ma sui floating point no quindi può verificarsi l'over anche in python quindi la sintassi semplicemente questo arrays leggetelo come fosse un return ok un return di un nome in eccezione con eventualmente un messaggio di spiegazione qui ci sono alcuni esempi di una lettura di un file quindi qui leggo il nome di un file da un utente con una funzione read file ipotetica che prende il nome del file e mi restituisce i dati e quindi immaginiamo che questa funzione possa generare vari tipi di errore magari un input output error se il file non si è riuscito a creare se un value error se magari i valori convertiti all'interno del file non erano validi oppure in questo caso run time error altri tipi di errori di cui stampo il messaggio ecco questa è una gestione di errore molto molto grezza del tipo chiamo una funzione questa funzione farà tanta roba e dentro non si preoccupa di fare gestione dell'errore lei stessa e quindi qualunque eccezione si verifichi la vado a catturare direttamente io nel main meglio che niente tutto sommato però molto più che niente semplicemente esce dal programma con un messaggio piuttosto che col messaggio standard diverso è se invece questa gestione degli errori la propago all'interno della funzione con 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 un try in questo caso un finally che ci ricorda di chiudere il file e poi nella funzione di lettura dei dati in cui entro qua dentro va dove a certo punto il raise va a controllare se il dato qui non entriamo nel dettaglio di questa funzione non mi interessa più di tanto magari faremo sicuramente esercizi in cui ce la costruiamo noi senza andare a leggere una situazione già fatta ma va a fare delle conversioni degli int che può generare un value error read data allora nel caso in cui questo int genera un value error non c'è un try su value error dentro read data non c'è un try su value error dentro read file se lo vediamo indietro c'è nel main e quindi verrà eseguito questo gestore dell'errore per una eccezione che si verifica dentro la funzione int che è dentro la funzione read data che è dentro la funzione read file che è dentro la funzione main si propagano così oppure in questo caso ho un'eccezione particolare per cui pensavo che il file fosse finito ma ci sono dei dati in più quindi provo a leggere una riga in più rispetto a quella che mi aspettavo e mi accorgo che ci sono ancora dati e non dovrebbero esserci allora in questo caso genero un errore nuovo mi aspettavo che il file finisse invece non è finito e in questo caso l'ho generato così vabbè questi sono alcuni esempi quindi riassumendo quando apriamo un file con open o quando facciamo operazione di input output è sempre bene controllare l'eccezione io error e poi in alcuni casi sarà recuperabile se l'eccezione semplicemente che il file non è trovato e quindi l'utente può cambiare magari il nome del file oppure in altri casi non è recuperabile ma evitiamo che il programma vada avanti su un file che non esiste e così come quando vogliamo validare l'input dell'utente convertito con le funzioni int o float ma anche quando validiamo il contenuto di un file con le funzioni int o float mettiamoci un bel try un bel blocco try perché così se troviamo un valore non valido sappiamo almeno o ignorare la riga o interrompere l'acquisizione dei dati o interrompere il programma complessivamente ok dicevo la raise come dicevamo all'inizio la gestione della la rilevazione degli errori con la raise avremo molto raramente necessità di farlo mentre invece la gestione degli errori con il try except sì ok questa chiusa questa parentesi molto specifica vorrei vedere magari con voi se non ci sono domande dieci minuti un esercizio un altro esercizio di elaborazione semplice di un file di testo soprattutto per magari condividere quello che può essere un processo mentale di costruzione dei programmi quando abbiamo a che fare con i file questi controlli vengono richiesti all'esame normalmente nel testo viene richiesto viene specificato quale tipo di di assunzioni possiamo fare per cui a volte in un testo di esercizio c'è scritto si assuma che i dati contenuti nel file siano già siano corretti quindi non ci siano errori di formato allora in quel caso ti stavo dicendo che in un caso reale ovviamente gli errori vanno gestiti ma nel caso specifico di un esercizio facciamo finta che che non debbano essere gestiti perché assumiamo che le informazioni già siano corrette per semplicità ok perché ovviamente visto il tempo limitato che ci sono in un erame non si può pensare di vedere tutti i casi possibili però normalmente viene specificato nel testo che cosa va controllato che cosa hanno allora l'esempio è questo ci sono due file che sono quelli che abbiamo già condiviso ieri World Area e World Population che indicano per ciascuna nazione del mondo insomma non so se ci sono proprio tutte ma una serie di nazioni del mondo il primo file indica il nome della nazione e l'area la superficie in qualche unità di misura che non è detto che siano chilometri quadrati potrebbero essere unità di misura imperiale di qualche tipo e la popolazione in termini di numero di persone ok assumiamo nel senso che qualcuno ci ha detto e diamo per scontato che sia così che l'ordine in cui compaiono le nazioni nei due file sia lo stesso in questo caso sia l'ordine alfabetico quindi la nazione che troverò alla riga 40 del primo file sarà esattamente la stessa che troverò alla riga 40 del secondo file e questo mi semplifica di molto la vita ovviamente cosa voglio fare con questi due file voglio creare un terzo file che abbia un formato simile quindi nome della nazione e numero a fianco dove questo numero rappresenti la densità di popolazione nel file stesso nella nazione stessa quindi la densità di popolazione altro non è che popolazione diviso area diviso superficie solo che la superficie e la popolazione sono in due file diversi quindi dovrò leggere questi due file calcolare la densità di popolazione e costruire stampare in output il file risultante questo è un tipico esercizio qui c'è questa scaletta di sei punti che possiamo usare per guidare il nostro ragionamento adesso ci concentriamo nel ragionamento perché non ci stiamo in nove minuti a fare la soluzione dell'esercizio però la trovate sia sul libro che possiamo fare la potete poi provare a farla e la condividiamo online prima di tutto devo decidere che tipo di elaborazione fare a seconda del tipo di elaborazione che devo fare in alcuni casi posso elaborare i dati mentre li leggo leggo una riga la elaboro passo la riga successiva dimenticando quella precedente la elaboro passo la terza riga dimenticando la seconda la elaboro e così via oppure devo leggere i dati memorizzarli tutti e poi elaborarli questo secondo caso in realtà funziona sempre il primo caso invece funziona solo in alcuni casi dipende da che elaborazione devo fare se io non avessi avuto queste ipotesi e quindi le nazioni nei vari file potevano saltare fuori in ordine qualunque quando io leggo la popolazione dell'Afghanistan l'area dell'Afghanistan come prima riga di questo file non è detto che la popolazione dell'Afghanistan sia nella prima riga nel secondo file in generale potrebbe essere nell'ultima allora come faccio a generare l'output potrò scrivere la densità di popolazione dell'Afghanistan solo dopo che ho visto la sua area e la sua popolazione ma questo potrebbe voler dire che devo aver letto tutto il primo file e tutto il secondo se fosse in un ordine casuale in un ordine non definito allora in quel caso sarei obbligato prima a leggere tutti i file e poi dopo fare i controlli su fare la divisione il rapporto per tenere la densità di nazioni che hanno lo stesso nome in questo caso mi dicono guarda che se tu vai avanti riga per riga prima riga del primo file prima riga del secondo file fai il conto e costruisci la riga dell'output la prima riga dell'output in questo caso posso scegliere di elaborare una riga stampare l'output e dimenticare la riga quindi dobbiamo innanzitutto capire se l'elaborazione si può fare in una passata sola oppure leggo un file e cosa faccio lo memorizzo in una lista una lista di string una lista di liste in questo caso sono due colonne quindi potrebbe essere una lista di liste in cui nella prima colonna c'è il nome della nazione nella seconda colonna c'è il numero e poi una volta che ho queste liste lavoro con le liste faccio i calcoli che devo fare e genero il file di uscita questa è la seconda casistica oppure cerco di far tutto nel ciclo di lettura del file stesso dipende dai casi quindi la prima domanda che mi devo fare elaboro il file al volo oppure lo leggo lo memorizzo e poi elaboro i dati che ho letto a questo punto vabbè secondo passaggio molto facile quali file devo aprire in lettura quali file devo aprire in scrittura in questo caso è facile devo aprire in lettura questi due file primo uno e poi l'altro può darsi contemporaneamente può darsi dipende dai casi se decidiamo di andare avanti riga per riga li dovremmo aprire entrambi contemporaneamente quindi avere file ingresso uno e file ingresso due se invece leggiamo i dati e poi decidiamo di elaborarli dopo posso leggere prima il file uno lo metto da parte poi il file due lo metto da parte magari con la stessa funzione visto che hanno lo stesso formato e poi dopo elaboro e quindi potrò aprire in momenti diversi ma saranno sempre i stessi file mentre invece apro una volta solo i file di scrittura i nomi dei file i nomi dei file sono già predefiniti allora li metto in una costante nel programma oppure li chiedo all'utente decido di caso in caso in alcuni casi sarà già specificato qual è il nome del file in altri casi invece il nome del file deve essere acquisito dall'utente oppure generato ne so automaticamente in qualche modo sulla base dei dati che ho a disposizione a questo punto so quali sono i nomi dei file li apro so come elaborarli e a questo punto passo sul tecnico finora questi tre punti sono punti diciamo così sul piano algoritmico come imposto il problema quando scendo sul piano tecnico mi chiedo come vado a estrarre i dati la mega stringa che legge tutto read line leggo una riga solo per volta col for leggo un carattere per volta col read di uno come vado a spacchettare i dati molto spesso conviene lavorare per righe quindi o con while read line oppure col for dipende adesso nel nostro caso in cui dobbiamo leggere due file in parallelo il for non va tanto bene perché il for intera solo su un file non su due file e poi passo dopo una volta che ho una riga per volta devo riuscire a spacchettare i dati di questa linea in questo esempio è un esempio un po' sfortunato perché ci sono gli spazi qua quindi dovremmo fare un po' di lavoro per separare il numero del nome della nazione quindi non è banalissimo in questo caso però è un problema di string è un problema in cui ho una riga che rappresenta una stringa che rappresenta la singola riga e devo separare i due campi con una con un formato che non è sicuramente un formato comodo questo e quindi bisogna andare a cercare lo spazio ci risolve questo problema ma lo mettiamo in una funzioncina che magari prende una stringa e restituisce una lista di due elementi il nome e il valore estratto allora quella funzione magari è un po' complicata magari è un po' contorta perché deve andare ad analizzare una stringa ma è in una funzione e la chiamiamo ogni volta che vogliamo estrarre i dati da una linea non mescoliamo i livelli se voi cercate di pensare tutto contemporaneamente vi incasinate ci incasiniamo tutti quindi il livello di strategia di algoritmo come faccio a gestire il file il livello di lettura dei dati e il livello di analisi dei dati quindi spacchettamento passificazione della stringa separazione dei vari campi sono tre livelli completamente diversi conviene partire dall'alto e poi andare verso il basso e soprattutto a livello di organizzazione del codice usiamo le funzioni ogni funzione fa un pezzettino del lavoro e poi mettiamo tutto insieme cercando di non confondere le due cose perché altrimenti prima abbiamo fatto degli esercizi molto semplici però abbiamo già subito visto che per leggere che non so la poesia la fila strocca di Mary una pecorella ci servivano come meno due cicli annidati e se volevamo gestire anche l'apostrofo ci serviva un terzo ciclo annidato perché lì abbiamo fatto tutto insieme la lettura del file lo spacchettamento delle linee la divisione delle parole eccetera eccetera e la pulizia delle stringhe era un esempio semplice e ci lo potevamo permettere su esempi più complessi conviene separare in varie funzioni i vari in una funzione come c'era un esempio che abbiamo visto prima parlando delle eccezioni una funzione che gestisce il ciclo di lettura e un'altra funzione che gestisce l'analisi della singola riga così ogni funzione quella che analizza la riga non deve sapere nulla sul file riceve una stringa e cerca di dividerla con i criteri migliori la funzione che legge il file si occupa solamente di gestire l'inizio la fine del file eccetera ma non la conversione dei dati e così via quindi cerchiamo veramente sia mentalmente soprattutto mentalmente ma anche in organizzazione dei codici di usare funzioni e separare questi livelli che sono livelli oggettivamente diversi queste sono domande non ce le ho le risposte la risposta dipende nel senso che o in ogni caso specifico la strada da prendere sarà diversa magari c'è una strada preferibile rispetto a un'altra magari ci sono due strade che sono equivalenti entrambe buone ciascuno di noi troverà la propria strada scoprirà la propria strada e non c'è una ricetta che ti permette di dire fai esattamente così per quello abbiamo valutato visto e continueremo a vedere in esercizi vari modi di fare le cose proprio per avere degli strumenti che di fronte a un problema nuovo ci permettono di aiutarci ah guarda questo lo possiamo affrontare in questo modo oppure in un modo diverso se andate a scorrere le slide successive vi racconta un modo possibile di implementare questi sei passi in questo in questo singolo esercizio quindi potete provare a farlo poi confrontiamo le nostre varie soluzioni nei prossimi giorni allora io in chiusura nell'ultimo minuto vi ricordo giovedì il laboratorio per ora per l'informazione che abbiamo oggi è ancora totalmente online nonostante vi sia arrivato un questionario ma non so esattamente ma non credo che da adesso a giovedì possano cambiare le cose ma aspettiamoci di tutto però per ora ragioniamo sul laboratorio ancora online come era le scorse due settimane poi non sappiamo cosa succederà dopo la settimana prossima non ci vediamo in modo interattivo sulle lezioni perché come vi ho già accennato ieri pubblicheremo tre video uno di esercizi sul laboratorio 8 uno per la chiusura della parte di teoria sulla rappresentazione dei numeri e l'altro per il secondo capitolo di teoria che è quello sull'architettura del calcolatore quindi la settimana prossima che c'è la sospensione didattica del 7 e l'8 dicembre ci vediamo in modo asincrono semplicemente condividendo i video e invece il laboratorio del 10 dicembre invece è confermato non è più festa e non sappiamo potrà essere online o potrà essere in presenza come prima secondo di che cosa deciderà il Politecnico quindi è una settimana un po' di imprevisti un po' diversa dal solito ma nulla ci toglie dal fatto che il laboratorio continua a esserci continua a proseguire la settimana prossima il laboratorio del 10 sarà sui file ovviamente e poi nell'ultima settimana introdurremo l'ultimo argomento del corso che è gli insiemi edizionari che si incastrano molto bene con i file soprattutto con i file in cui c'è un record per ogni riga quindi vedremo non abbiamo fatto tanti esercizi su questi tipi di file perché li vedremo molto meglio la settimana non prossima perché ci sono le lezioni che saltano ma quelle successive per qualunque altra cosa sapete come raggiungermi come contattarmi e adesso che sono i 3601 vi saluto vi ringrazio buon appetito e buon ponte la settimana prossima ci vediamo giovedì in laboratorio grazie a tutti grazie a tutti